Dai ragazzi, mettiamola dietro, arriva la conclusione, palla che rimane lì, poi la conclusione, mamma mia, Alessio, attenzione, con Totti che caggia, gol! 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 Il capitano, proprio lui, il capitano, trova il gol del 3-3, Francesco Totti, il gol di Totti, Spalletti vuole rimettere la palla subito al centro, il gol del capitano Alessio, con un'azione insistita da Giacomo, poi una serie di batti e ribatti, alla fine è arrivato Francesco Totti.